Giancarlo Bosser, Chief Life and Employee Benefits Officer di Generali Italia. Oggi Generali presenta Genera Valore, una nuova soluzione di investimento assicurativa. Quali sono i vantaggi e soprattutto i rischi per il cliente e le vostre aspettative? In questo contesto di mercato la ricerca del rendimento è un mestiere difficile. Un mestiere difficile che richiede professionalità. Professionalità in grado di saper cogliere le migliori opportunità sul mercato mixandole con la giusta gestione del rischio. Evidentemente profili di rischi diversi richiedono risposte diverse. Genera Valore è un prodotto che si colloca su un profilo di rischio medio elevato quindi su un orizzonte temporale medio lungo sui 5-10 anni in cui inseguire assieme al nostro prodotto e ai nostri gestori tutte le opportunità di rendimento sul medio e lungo periodo che l'economia globale in questo momento può soffrire. Grazie.